Due o tre anni lo vedo in questo stato, non lo so se stanno facendo lavori, però è sempre uguale più o meno. Tutto ancora fermo in via Fabio Filzi, proprio dove dovrebbe sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo. Adesso l'annuncio dell'avvio della procedura di risoluzione del contratto con l'azienda appaltatrice dell'Opera. Una decisione inevitabile, come aveva annunciato in Consiglio Comunale il sindaco Alessandro Ghinelli, con l'intento però di cercare soluzioni extra giudiziarie. Agli uffici legali del Comune è stato così dato mandato di studiare una strada percorribile. Le prime operazioni di bonifica e demolizione nell'ottobre 2021. Gli interventi sarebbero poi dovuti durare 330 giorni per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Nell'aprile successivo però lo stop del cantiere per motivi economici, tra cui caro materie prime e approvvigionamento energetico. Cioè, quando una cosa è stata comunque risistemata probabilmente il valore alla zona gliela dà, penso di sì. Adesso il Comune sta cercando una soluzione. Gli uffici stanno studiando la complessa situazione che si è maturata.